cari acquario meno male che venere c'è il venere è nel vostro segno venere che zucchero che ambrosia che l'airbag più adeguato a parare gli urti di un marte contrario che vi vorrebbe scontrosi facili alla lite marte soprattutto per ciò che riguarda questioni di famiglia di casa di immobili se siete alle prese con una compravendita con una ristrutturazione con questioni che riguardano da vicino i vostri affetti più cari eccoli potreste perdere un po la trebisonda però ripeto venere vi aiuterà a conciliare i toni poi c'è ancora giove che vi porta la fortuna giusta legata alle alleanze alle amicizie alla clientela quindi diciamo che se voi mitigherete queste istanze guerra fondaie determinate da marte riuscirete a portare a casa collaborazioni fare bella figura sul lavoro e anche ottenere belle soddisfazioni amorose e c'è lo slancio suino che è un po' moscetto l'ormone non risponde nell'alcova c'è silenzio di tomba o quasi grazie a tutti Grazie a tutti.